Con le immagini adesso in Tanzania con questa tragedia, un traghetto è affondato nelle acque del lago Vittoria di fronte alle coste dell'isola di Ucara. L'imbarcazione era sovraffollata e i testimoni parlano di centinaia di passeggeri a bordo, molti e più di quanti in mezzo ne potesse trasportare. Almeno 130 le vittime, solo una quarantina le persone tratte in salvo. In un telegramma Papa Francesco ha espresso la solidarietà ai familiari delle vittime e l'incoraggiamento ai soccorritori.